Ciao a tutti, ho 33 anni, mi chiamo Andrea, sono italiano, ho trovato Milano Clinic su internet guardando diciamo recensioni, ottime recensioni, diciamo che ho scritto subito a Claudio, le interprete, fin da subito ho visto comunque grande impegno, devo dire che mi sono trovato veramente bene con tutto lo staff, professionale, siamo sempre disponibili, l'intervento è stato veramente in dolore, sono davvero davvero diciamo soddisfatto dei miei risultati. Per qualsiasi altro intervento, operazioni, mi affiderò ancora a loro perché è stato veramente allo staff, veramente disponibile, sempre pronto, attento a tutto, ci siamo mai sentiti da soli, per qualsiasi problema, qualsiasi cosa, ci sono sempre stati tutti, il dottore è professionale, veramente, lo posso davvero raccomandare, 100%. Grazie a tutto lo staff, un abbraccio, a presto. Ciao a tutti, da Italia. Ciao a tutti.